Un Rimini brutto ma efficace strappa tre punti sul campo dell'ostico progresso che si dimostra formazione tosta ben messa in campo dal proprio tecnico. Le due maglie in campo non sono certamente la top model ma aspettando che arrivi la famosa maglia scacchi per i Rimini in un pomeriggio meno nebbioso di Sant'Agostino ma opaco sul piano del gioco ma è maglia più azzeccata verrebbe da dire. Il verde fosforescente in direzione orizzontale che serve per trovare la retta via? Intanto Bacchiocchi alla prima accende la luce per i suoi mentre Valori fin dalle prime battute prova a mostrare i propri valori in campo ma Bertazzi c'è. Il gol arriva poco dopo, azione confusa, Bertazzi esce a farfalle e per Fabri è un gioco da ragazzi depositare in fondo a sacco il pallone dell'1-0. Sono passati 16 minuti di gioco ma vedendo l'evolversi del match mai pallone più fluido e visibile da essere buttato in rete, giusto a questo punto la gioia bianco-rossa. Poco dopo Fabri prova a complicare le cose nuovamente da Bertazzi con un traversone non di certo irresistibile ma il portiere sbroglia in qualche modo. Dall'altra parte prova a demolarlo Vinci che serve a Bassoli il pallone del pareggio ma l'attaccante cicca cravolosamente la sfera si volando sul terreno di gioco. Al quarantesimo Mignani si vola anche lui e trattiene il pallone tra le gambe. Calcia la ripetizione fino a quando il direttore di gara fischia la punizione in favore del progresso che non riesce a pungere con Tanni che c'entra in pieno la barriera. In chiusura di tempo, in contropiede, il rivini gioca di finezza. Ciccare vince tanto il pallonetto ma viene fuori un passaggio per Albertazzi. squadra a riposo solo 0-1. A rientro il rimini prova a colpire, almeno si fa per dire, con un pallone che è un incrocio tra un tiro e un cross che arriva facilmente tra i guantoni di Albertazzi. Più pericolosa l'azione dopo che causa l'inserimento di Fabri in area avversaria con la sfera che si spegne sull'esterno della rete. 60 secondi dopo, cross di Buonaventura, colpo di testa di Valori ma palla. Fuori, bersaglio. I padroni di casa non fanno un granché. Basso li prova a spaventare Mignani, centrando l'esterno della rete. Se i pericoli sono questi, sembrano dire i tifosi del rivini, possiamo tranquillamente continuare a cantare e a sventurare la bandiera. Messaggio recepito dai giocatori del progresso che chiamano la deviazione in corner. L'attento Mignani sul tiro di Di Giulio. Alla mezz'ora i locali recriminano per un rigore non concesso ma l'intervento di Brighi risulta essere tempestivo e pulito. Più incisivi quando andrebbero anche i gol ma l'arbitro segnalo un fallo in area di rigore, annullando la rete. A questo punto loro possono tranquillamente fumarsi la propria sigaretta in santa pace, mentre a fotofinish in orchiesa ci mette potenza ma non precisione permettendo a loro finalmente di festeggiare, esponendo il famoso bandierone in mezzo al nebbione. Saluti a tutti e Buon Natale. Pardon, prima Mastro Nicola ricorda. Manca una bella partita mercoledì in Coppa e facciamo un bel Natale. Sì, mercoledì abbiamo la Coppa, come ho detto sempre la Coppa è una gara a cui teniamo perché comunque è una gara ufficiale in cui noi comunque indossiamo la maglia ufficiale e quindi la rispetteremo fino a quando riusciremo ad andare avanti. Mentre Nader si morde le mani. Sì, sono molto deluso perché le partite con Rimini non sono mai le più difficili del campionato. Dall'inizio dell'anno che grazie a voi vedo le partite del Rimini e tutte le squadre fanno la partita migliore della stagione. Quindi mi aspettavo anche da parte nostra la partita migliore della stagione. E lunedì 19, tutti a festeggiare il Natale al ristorante Frontemare con la speranza che arriva l'Adriatico i calciatori abbiano riportato più la fronte intesa come testa che il mare come acqua.